1.9 è la votazione aperta. Bene, la votazione è chiusa. Presenti 424, votanti 423, astenuti 1, maggioranza 212, farò i 163, contrari 260, la Camera respinge. Siamo all'1.10, parentela. Prego, non le parentela. Grazie, Presidente. Allora, visto che in questo provvedimento si parla di semplificazione, noi proponiamo con questo emendamento, diamo come obiettivo appunto la semplificazione nel mondo dell'agricoltura. In questo caso semplifichiamo la compravendita di fondi di esiguale valore e affidiamo al Segretario Comunale le autoindicazioni per sottoscrivere queste necessarie stipulazioni di contratti per il trasferimento di fondi di esiguale valore. Non capiamo come mai il Governo ha dato parere negativo a questo emendamento. Noi lo stiamo proponendo in ogni provvedimento utile che appunto riguarda la semplificazione del mondo agricolo. Si tratta di semplificare, quindi non capiamo veramente la razio per il quale il Governo e la maggioranza puntualmente rispingono questo emendamento, che sarebbe davvero una manna dal cielo per gli agricoltori, soprattutto per i piccoli agricoltori e i contadini. Grazie. Grazie a lei. Altri che intendono intervenire? Non mi pare. Parere contrario. Relatore e Governo. 1.10 parentela. La votazione è aperta. Bolognesi, Piepoli, Sciullian, Fanucci, Grassi, Ci siamo? Patriarca, beni di gioia. La votazione è chiusa. Presenti 433, votanti 419.